Il nuovo e tanto discusso centro commerciale, l'unico previsto a livello provinciale con una dimensione totale di 20.000 metri quadrati, sorgerà nel complesso 20 di via Galilea Bolzano del gruppo Podini. La Giunta ha avvallato all'unanimità la proposta avanzata dalla Commissione di esperti di nomina mista, provincia comune. Una soluzione sensata, ha riferito il Landesautman, anche perché rispetto alla realizzazione di strutture ex novo, ci consente di risparmiare terreni. La Giunta ha inoltre discusso alcune proposte avanzate dalle associazioni di categoria dei commercianti per evitare che l'attuale normativa consenta in maniera indiretta la nascita di ulteriori centri commerciali. Dornwalder ha voluto prendere in esame anche il ruolo dell'Unione Commercio. La situazione è questa, per quanto riguarda i centri commerciali è deciso tutto, perché noi siamo venuti incontro anche a loro, perché se noi avessimo costruito un nuovo complesso, per esempio diciamo la colina Pasquali o se avessimo fatto qualcosa vicino alla stazione eccetera, prima di tutto avremmo perso un sacco di tempo perché sappiamo costruirlo nell'area ferroviaria vuol dire perdere come minimo 5-10 anni e perciò abbiamo detto che vogliamo prendere una struttura già esistente. Il prossimo passaggio riguarda l'avvio delle procedure per la modifica d'ufficio del piano urbanistico del Comune di Bolzano. Sempre nel corso della conferenza il Presidente ha parlato anche dei 25 rifugi passati con il primo di gennaio 2011 dal CAI alla provincia. I costi previsti per gli interventi di manutenzione ammonteranno a circa 10 milioni di euro. Ora verrà stilata una lista delle priorità per organizzare al meglio dal punto di vista sia logistico che finanziario i lavori da compiere. Grazie. Grazie. Grazie.